Un caro saluto a tutti gli ascoltatori della trasmissione Miss Culturale Italia-Brasile. Sono la poetessa Paola Macchioli. Oggi vorrei parlare del mio libro di poesie dal titolo Paola Io, di edizione WIP. Questo libro è una raccolta poetica che esplora varie tematiche, i sentimenti, la natura, la vita, l'amore, le questioni sociali, le religioni, i defunti, il femminicidio, le poesie su richiesta e la storia. Ogni poesia è un riflesso della mia anima, un dialogo tra me e le emozioni che vivo. Scrivo in uno stato di trance, lasciando che la mia anima mi guidi. Alcune delle mie poesie sono accompagnate da fotografie in bianco e nero dove recito e dramatizzo utilizzando il corpo e il viso, per esprimere al meglio le emozioni e i sentimenti. Ora vorrei leggervi una delle mie poesie che mi rappresentano, dal titolo Poesia Poesie. Scrivere è nell'anima, ogni cosa è poesia, lei si presenta e invita a scrivere, a donare un pizzico di felicità. Lei è mia amica e mi rende speciale quando scrivo. Con lei io sono piena. Spero che questa poesia vi abbia toccato come è successo a me, mentre la scrivevo. Grazie per avermi ascoltato e spero che Paola e io possa trovare un posto speciale nei vostri cuori.